Stiamo girando fra gli stand e intorno alla carovana del Giro d'Italia, una giornata veramente impegnativa per tutti quanti perché tutti da un giorno all'altro devono portare la ricezione, la trasmissione, tutto quello che necessita per poi dare all'utenza il servizio. Siamo nello stander di Burati Franco, contentissimo perché gioca in casa, un giro di tappo in Italia che come Spesini lo aspettavamo tutti quanti. Aspettiamo Alessandro Petacchi all'arrivo, mi auguro che oggi faccia la sua volata vincente perché è un bravissimo ragazzo, un ragazzo serio che fa il ciclismo da una vita e quindi io sono suo tifoso quindi devo parlare solamente di lui e poi degli altri corridori ci mancherebbe. Sono 31 anni che faccio il Giro d'Italia, sono uno dei più vecchi del Giro d'Italia, sono partito nel 1984 con Francesco Mosere e siamo qua a Spezia. Cosa vuol dire seguire una carovana? Noi facciamo la vendita, abbiamo tutte le maglie dei professionisti originali ma più che altro la passione perché la carovana del Giro d'Italia è sempre un evento, anzi forse il primo evento è un'Italia itinerante che porta tutte le piazze d'Italia oltre i corridori però tutto l'entourage della Gazzetta dello Sport che è la prima organizzazione io penso nel mondo, superiore anche al Tour de France dove io sono stato, anche se qualcuno dice il contrario. Vi dico anche le maglie più vendute al Giro d'Italia, in questo momento è sempre la BMC che comanda, il mercato, poi viene la Sky e naturalmente l'Orica Greenage perché c'è la maglia rosa. E per quanto riguarda la squadra Spezzina, il nostro team che realmente sta puntando molto su questo, come lo vedi? Lo vedo molto bene perché hanno un grande manager che è il signor Pelosi, hanno un grande corridore come Cunigo, è una squadra nuova quindi dobbiamo vedere un po' a lunga distanza a parte quest'anno ma penso che nel futuro venga fuori una squadra molto molto buona. La Nippo Fantini che ha anche un uomo di punta oggi vorrebbe, se fosse possibile, Paolo De Negri, il nostro Paolo De Negri, certamente un bel velocista, giovane, può dire la sua in un percorso così ondulato, misto, di media montagna come dice la Gazzetta dello Sport. Ieri un po' di brusio per la caduta di Pozzo Vivo. Caduto Pozzo Vivo, insomma comunque ho visto che si è ripreso bene e speriamo che possa fare un bel Tour de France. Una giornata oggi molto… Giornata mitica del grande ciclismo. Spesina? Spesina. Beh allora un grazie per questa piccola intervista, poi da Spesino un bel ricordo anche per noi. Ti ringrazio e saluto tutti gli amici Spesino. Poi insomma d'altronde anche te e nell'ambiente Spesino, nel tessuto Spesino, hai venduto bicicletta a tutti, perciò penso che i ragazzi… Abbiamo un bellissimo showroom a Sarzana, venite a visitarlo, ci sono dei marchi importanti come ripeto BMC, la Bianchi e altri marchi sempre importanti. Ti ringrazio, ciao e buona giornata. Altrettanto, ti saluto, buongiorno. Vediamo l'assessore che è l'assessore allo sport che sta girando nella postazione del giro, sempre attiva ai suoi compiti, insomma un dispiegamento che fa paura veramente, un giro d'Italia quando si ferma in una città non scherza e perciò ci sono dispiegamenti di mezzi e anche il sindaco Federici è uscito e sta facendo una visita nella zona dell'arrivo, una giornata veramente campale, una giornata dove tutto è fremente e ci sono veramente delle persone, sono in supervisione come al solito, grandi controlli dappertutto, non si può muovere, d'altronde c'è molta gente che lavora e da un giorno all'altro tutto si sposta e non non è certo una cosa piacevole. Vediamo lo spostamento delle camere mobili, quelle che ci mettono e ci danno quelle sensazioni di essere sempre vicini al corridore quando arrivano e ci entusiasmano quando c'è la volata. e ora andiamo a dare una curiosata dove stanno preparando all'autorità portuale. Per l'organizzazione non so se hai fatto un giro nell'allestimento ma praticamente in poche ore allestiscono una vera e propria città. Una città che lì abbiamo visto adesso nella strada è stato preparato un arrivo con veramente delle cose megagalattiche, uno non poteva pensare veramente quello che si sta vedendo con occhi. Ma assolutamente sì, nel giro di poche ore riescono a trasformare una città e a dire la verità poi la nostra città si presta particolarmente bene a questo tipo di intervento, tant'è vero che io in tutte le occasioni dico che è l'arrivo più bello del mondo, forse sarò di parte però la penso davvero così. No, effettivamente anche guardando ieri da televisione l'arrivo di Chiavari non è stato un grande arrivo, insomma un arrivo abbastanza normale, invece oggi qua vedo una preparazione anche luminosa. Sì, sì, assolutamente, è una volata di quasi 800 metri, insomma, quindi ci sarà veramente da vedere. L'unica cosa è che non sarà una volata di gruppo perché considerando le asperità che precedono l'arrivo sicuramente sarà ristretta a un gruppetto dei migliori. E riguardo a ieri che c'è stata quella caduta, mi sembra che sia andato tutto regolare, ho letto nei giornali che non ci sono preoputazioni di alto livello. No, no, fortunatamente è stato soltanto un grosso colpo perché a quanto ho visto praticamente ha avuto, è andata via la ruota davanti e quindi ha avuto una scivolata battendo con il viso, battendo con il viso per terra. Siamo insieme a Gianni Ambrosi a un terminal dove il Giro d'Italia ha creato così tutto il cervello per poter seguire quello che è, impressioni, scusami, dopo dieci. Dopo quasi 20 anni, 25 anni che sono fuori dal giro, è un'emozione grande di trovarsi qua a Spezia, per ogni volta ero qua a Spezia con la Spezia Langhirano e poi ho dovuto mollare tutto per i giudizi di lavoro. In ogni volta è un'emozione sempre come se fosse la prima volta. Beh, ricordi e spero che questo che sto facendo di questi tre spezzini che sono stati al Giro d'Italia, che sono Graziano Battistini che l'ha fatto per dieci anni, portando anche la maglia rosa per cinque giorni, Sergio D'Imporzano che è un giudice di gara della federazione in moto e più, sempre in moto commissario dell'UCI, poi è passato con l'organizzazione del Giro, è stato con me al Giro d'Italia all'Inter Giro appena era cominciato, ho fatto quasi cinque anni di Inter Giro, poi c'è un altro personaggio che sono sempre nascosi di questi personaggi, si arriva di massaggiatori. Ambrosi Marti che ha cominciato con la Legnano ai tempi di Berardo Paglidi, è passato alla Ibac, alla Vitadello, alla Magno e poi ultimamente ha fatto gli ultimi quattro anni, cinque anni con la Gion Casantini, aveva sotto di lui Vittorsi, Bellini, Motta, Gavaggi, due volte campione italiano e adesso cerco di fare un libro di questi tre personaggi per far conoscere non solamente i corridori ma i personaggi che sono all'interno del Giro. Tornando invece ci manca proprio il rumore della ruota che gira. E poi avendo fatto quasi tutti i giri, non dico il 50% ma il 60% sulle moto, si sente proprio il rumore della strada dietro al Corridorio. Ricordiamoci i tempi passati dalla Parma a Spezia, una grande... Era la prima volta che avevi fatto il 60 marzo meravigliato per come si entrava con la moto dentro ai corridori con una certa facilità perché bisognava anche essere capaci di intarsi. Ok, grazie Gianni. Tutti sono alle pendenze di questi accrediti perché anche le persone del Comune devono essere accreditate per poter girare in mezzo all'organizzazione. Sì, l'organizzazione è fatta in modo tale che ci sia un controllo. Ma soprattutto da parte dell'organizzazione del Giro per evitare confusioni e quant'altro. Un evento veramente grandioso? Un evento straordinario, un'esperienza importante. Io mi occupo di sport dagli ultimi dieci anni ed è la prima volta che mi trovo a vivere un evento di questo tipo con un lavoro di collaborazione, ma poi è RCS che ho fatto tutto. Una macchina infernale l'abbiamo vista. Una macchina infernale, sì, dal punto di vista della città per quello che riguarda tutte le difficoltà sul piano della mobilità e proprio della vita quotidiana della città, ma mi pare che i cittadini l'abbiano ben accolta e dal punto di vista della gara poi vedremo oggi. Insomma, tutto è pronto. Siamo su 107 paesi del mondo, una visibilità mai avuta come a Spezia. Una soddisfazione poi, diciamo così proprio, per la città in sé. Sì, 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 una bella vetrina. Abbiamo oggi la città sul mondo? Direi di sì, tant'altro. Grazie per l'intervento, grazie Rafferini. Ciao, ciao. Il villaggio del Giro d'Italia che si sta animando con tutte le postazioni delle ditte che stanno seguendo il Giro. Ciao, ciao. Amici del Museo dello Sport, buongiorno, siamo subito al pezzo, siamo alla ricerca e stiamo scoprendo così il Giro d'Italia che oggi alla Spezia farà la sua sosta dopo l'arrivo e sono circa le 12-20 perciò a Chiavari saremo in preparazione alla partenza per poi vederli arrivare oggi e tanto siamo davanti alla postazione dell'arrivo che c'è già un movimento non indifferente e diciamo che l'imponenza della carovana, del Giro, ne abbiamo sentito parlare più di mille mesi e infatti è veramente un'imponenza esagerata e specialmente dove si ferma una carovana c'è veramente tanto lavoro da svolgere. Tutto è esposto, pronti per essere venduto e qua ormai i ricordi sono la prima cosa da portare a casa, un ricordo di questo tipo ne vale l'ultimo ricordo è del 1989 quando passò il Giro qua alla Spezia. Vediamo tutte le postazioni che sono state create e posate sul nostro territorio per questa giornata importante, questa è una postazione francese che è ferma qui proprio sul mare vuole raccontare quello che accadrà qui nella nostra città davanti alla passeggiata Morin. Le bandiere garriscono al vento, è una giornata abbastanza fresca, siamo di maggio, oggi è il giorno 12, è la giornata fatidica che aspettavamo da tempo, ne abbiamo parlato e effettivamente si sta materializzando piano piano, qui abbiamo il ciclotappo dove i bambini e nel solito tempo dice che ci sarà anche Adorni a fare una piccola presenza e giocare con questi tappini un po' così come una volta si faceva per strada. Siamo agliolato noi, Agiba, Giancarlo, Guani, è sempre un come si dice un creativo e lui è stato un po' l'animatore e ha rimesso in moto il ciclotappo per i bambini. Oggi è una soddisfazione, sei al Giro d'Italia col tuo ciclotappo. Sì, sono già per la seconda volta perché nel 2011 sono stato a Parma che siamo anche amati a fare, sempre quando è arrivato alla tappa del Giro d'Italia, aveva giocato Adorni, Armani, Casalini e altri grandi campioni. Qua è un'occasione molto importante, mi piace tantissimo, io vado nelle scuole tutto l'anno a fare i giochi di una volta. Poi sei sotto al sole, una cosa meravigliosa, alla passeggiata a Morini io penso che sia il massimo. Tra un po' mi butto in aigua così faccio un bagnetto, è il massimo dei massimi. Parlando del ciclotappo, io mettevo le figurine dentro, oggi si presenta anche qualche personaggio mi ha detto a fare questa prova di ciclotappo. Sì, dovrebbe venire Adorni sicuramente che mi ha dato la sua adesione, dovrebbe venire Saroni, Moser, c'è anche Fontona e altri ciclisti di un tempo di Spezia che hanno fatto un po' la storia di Spezia. Insomma una soddisfazione dai? Una soddisfazione, una cosa che mi piace, quindi la faccio molto molto volentieri. Eh va bene, però è una cosa che ai bambini se gli fosse sottoposta più facilmente oppure fosse una postazione anche fissa dove i ragazzi potrebbero giocare veramente. Esatto, ripeto, io vado nelle scuole, è una postazione fissa la mia, porto la strada nella scuola, a volte i tappini, biglie, piferi, cerchioni, pinapine meta, figurine, quando giocavamo te sei qualche anno di meno, ma te te regeravi anche te. Eh voglia se ci giocavo, era la mia passione, io correvo con coppie Bartali, mi piacevano, poi io andavo in bicicletta, facevo il panettiere, no, io facevo il panettiere, portavo il pane in casa alla gente, perciò per me correre in bicicletta era una cosa, no, non so chi doveva passare la boraccia, vieni, vieni che ti fa due domande, veterano sportivo, siamo qua con il delegato della Liguria, anche lui, il presidente è la Francesca Bassi, eh beh, il presidente si presenta, il delegato della Liguria, onestamente, e allora mi dicevi che abbiamo preparato al Parco Allende? Al Parco Allende c'è una mostra fotografica in ricordo di Alfonsina Strada che è stata la prima ciclista donna a partecipare insieme agli uomini al Giro d'Italia nel 1924, è arrivata al traguardo del Giro, una cosa incredibile, su mi pare 80-90 partiti, sono arrivati solo in 30. Però a me mi diceva che c'era anche una spesina che aveva partecipato al Giro d'Italia. Sì, si chiama Violetta Pini, purtroppo è mancata giovanissima, 22 anni nel 1927, anche lei partecipò al Giro, ma non al Giro del 1924. Sì, insomma, grande lavoro. Sì, oltre al ricordo della strada di Alfonsina c'è anche ricordo dei nostri grandi dirigenti e soprattutto corridori ciclistici. Quindi al centro Allende c'è questa bellissima mostra che in una qualche maniera vuole ricordare il ciclismo e i nostri campioni locali. Ti ringrazio Lorenzini, buon lavoro. Ciao, ciao, grazie. Lo lasciamo. Sentiamo le musiche nella strada, tutto è pronto, vediamo il nostro comune, tutto una giornata soleggiata, una giornata bellissima, una giornata da godere veramente con il giro che verrà. Tanto traffico, tante persone e tanti interessi. Come possiamo vedere qui siamo proprio all'interno dell'ultimo tratto dove l'arrivo darà la classica gloria al vincitore. Una cosa interessantissima, vediamo Spezia oggi veramente trasformata nella città più sportiva dell'anno perché sono manifestazioni dove realmente ci si qualifica e ci si identifica. Una volata eccezionale, vediamo il nostro Viale Italia preparato di cima in fondo e fra un po' assisteremo un po' anche ai bambini che gli hanno dato la possibilità di fare il transito fino sotto l'arrivo con questa corsa locale.